Sono il professore Vanella e sono qui al Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università degli Studi di Catania. Sono qui per aiutarvi a rispondere a una delle domande più complesse della nostra esistenza. E dopo la maturità, che vorrei fare? Beh, tranquilli, ci siamo passati un po' tutti. Ecco qui i miei consigli. Se amate la biochimica, la biologia, la chimica, se volete scoprire cosa si cela dietro a un farmaco, non basta guardare serie tv su Netflix. I nostri corsi quinquennali di farmacie CTF e il nostro corso triennale di scienze farmaceutiche applicate possono rispondere a tutte le vostre domande e curiosità. L'offerta formativa è ampia e non finisce qui, perché dopo la laurea il nostro Dipartimento ha attivato una scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera e due master annuali su oncologia e prevenzione. Come ogni teorema ha la sua applicazione, anche qui la teoria diventa applicazione nei laboratori di didattica e di ricerca del nostro Dipartimento, dove entrerete in contatto con studenti Erasmus e docenti di fama internazionale. Alla fine del percorso quinquennale sarete esperti di qualunque molecola abbia effetto positivo o negativo sul nostro organismo, dal farmaco di sintesi all'estratto naturale. Quindi potrete lavorare in farmacia o in aziende farmaceutiche. Alla fine nel corso triennale invece potrete esercitare attività di controllo analitico, biochimico, microbiologico, tossicologico dell'ambiente o degli alimenti, oppure esercitare funzioni connesse all'attività di erborista a seconda del curriculum che sceglierete. Ricordiamoci, siamo al centro del Mediterraneo, quindi è il luogo perfetto per entrare in contatto con la natura e scoprire nuove molecole che possono migliorare la nostra salute. Oggi l'emergenza coronavirus ha evidenziato la necessità di avere più ricercatori e più figure sanitarie che possano affrontare le nuove sfide e scoprire nuove cure. Ricordiamoci che siamo quello che scegliamo di essere e il futuro siete voi.